Stasera, venerdì 12 agosto 2022, andrà in onda su canale 5 la serie TV Gran Hotel, scopriamo dove eravamo rimasti, quando inizia, la trama, le anticipazioni, l'orario della messa in onda, quante puntate sono previste e gli attori del cast. Stasera in TV, venerdì 5 agosto 2022, andrà in onda la quarta puntata della serie TV Gran Hotel Intrighi e Passioni 3, scopriamo quando inizia, l'orario, la trama, il cast e quante puntate sono previste. Leggi anche, Gran Hotel Intrighi e Passioni 3, quante puntate mancano? Ecco quando finisce, data ultima puntata, Gran Hotel Intrighi e Passioni 3 stasera 12 agosto 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in TV 5 agosto 2022 non è, una replica, canale 5 ha deciso finalmente di mandare in onda le nuove puntate della terza stagione della serie TV Gran Hotel rimasta in sospeso lo scorso settembre. Gran Hotel Intrighi e Passioni 3, quando va in onda? Giorno, canale, dove vederlo in TV la terza stagione di Gran Hotel andrà in onda con cadenza settimanale ogni venerdì su canale 5. A che ora inizia? Orario la terza puntata di Gran Hotel 3 andrà in onda stasera venerdì 12 agosto, ma a che orario inizia? L'appuntamento è alle 21 e 21. Gran Hotel 3 trama, anticipazioni Quarta puntata stasera scopriamo, quindi, le anticipazioni in merito alla puntata di Gran Hotel in onda stasera, quante puntate sono? Gli episodi della terza ed ultima stagione della serie TV Gran Hotel sono 22, di cui 7 già trasmessi l'estate scorsa. Canale 5 manderà quindi in onda gli episodi dal nono al ventiduesimo, per un totale di 14 episodi, due alla volta, per 7 prime serate. Cast completo Interpreta Interpreta La donna Beatriz Marta Azzas Interpreta Laura Elvira Montenegro Rovinia Roger Coma Interpreta Padre Grau Lidia Bosci Interpreta Violetta Salinas E voi, dopo aver scoperto la trama, seguirete Gran Hotel 3 in onda stasera? Restate aggiornati con per scoprire tutte le anticipazioni sulla serie TV Canale 5, quando inizia, la trama delle puntate, le news sulla puntata in onda stasera, l'orario, tutte le curiosità sui protagonisti del cast e il canale dove seguire le repliche della serie TV Gran Hotel in tridi e passioni 2022 in tv. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!